Csia Luzio Revisore Csia Luzio Revisore Ciao, mi chiamo Brian Pallas, ho 30 anni e voglio cambiare il mondo. È un obiettivo decisamente raggiungibile e ci sono rimasto molto male quando mi sono laureato in economia e nessuno mi ha dato un paese da gestire. È stato molto molto difficile e quindi sono diventato un imprenditore e con un percorso di imprenditoria tutto sommato breve, sono imprenditore da tre anni, siamo riusciti a creare non da solo ma con l'aiuto di un team di ormai 100 persone che ha creduto in noi fin dall'inizio, una realtà che ormai è in 130 paesi e che è stato in grado di aiutare circa 100 miliardi di transazioni a essere pubblicate e connesse a livello internazionale. Perché vi racconto questo? Vi racconto questo perché il mio sogno è di cambiare il mondo e non è necessario necessariamente far parte di un governo o di una qualche grande organizzazione per farlo. Quindi sono qui a raccontarvi una storia ed è la storia degli standard. Il mondo si basa su standard. Il primo standard che avete davanti a voi sono io in questo momento parlando in italiano, potevo farla in inglese, potevo farla in un'altra lingua e il linguaggio non è altro che una convenzione. Venendo un po' più ai giorni nostri vedete in ogni paese, geograficamente diversificati, ci sono diversi tipi di spinotti. A proposito, se andate in Inghilterra, quello inglese, se ci mettete una penna riuscite a infiare anche quello italiano. Ma a parte questo, quello che riesce veramente a plasmare e cambiare la vita di migliori di persone, nel piccolo o nel grande, sono gli standard. Quando qualcosa diventa l'abitudine, quando qualcosa diventa, diciamo, la caratteristica predominante di un sistema, questo andrà a modificare la vita di tutti. Quindi venendo un po' più vicini, guardiamo uno standard online, Google. Google è un'azienda che fondamentalmente fa quello che dovrebbe fare qualunque piattaforma elettronica. Tu vai lì e vuoi qualcosa, vuoi trovare dei risultati e te lo dà. Una buona piattaforma non solo te lo dà, ma te lo dà subito. Si parla tantissimo di piattaforme elettroniche e infatti gli ultimi anni si sono visti standard non più a livello geografico, quindi in Italia, in Francia, in Germania, come può essere una lingua o come può essere uno spinotto, ma si sono visti a livello globale, proprio perché è facile da un punto di vista geografico, per qualcosa di online, arrivare a tutti. E ovviamente le piattaforme hanno avuto grandissimo successo. Guardiamo Amazon, Amazon è un'azienda che dal 2006 al 2016 è cresciuta di 2000 volte in percentuale sul proprio valore, quindi 20 volte in 10 anni. Tu dici bellissimo, Amazon è una bellissima istituzione, la spesa mi arriva a casa, sto benissimo così. Ci sono due tipi di piattaforme e questo è quello di cui veramente voglio parlarvi oggi, perché gli standard che noi accettiamo e con cui noi lavoriamo possono portare a risultati veramente differenti. E quindi guardiamo il caso di Amazon, è vero Amazon è cresciuta tantissimo e ci porta la spesa a casa, però vediamo anche che nel giro di pochissimi anni tutti quelli che erano i distributori americani fisici sono fondamentalmente spariti. Ci è stata molta polemica e ci sono moltissime persone che dicono che le piattaforme sono fantastiche, costa tutto meno e il sistema è più efficiente, è giusto andare avanti così. Ci sono persone che dicono che vengono distrutti i posti di lavoro, dovrebbe essere impedito e è colpa della piattaforma per cui tutte le persone che un tempo stavano lavorando nelle aziende lì elencate e in questo momento sono a casa con la loro famiglia. Eppure non tutte le piattaforme sono uguali. Vedo una risata dal pubblico, chi di voi sa cosa è Tinder? Ha l'alzata di mano? Benissimo, fantastico. La differenza fondamentale fra le piattaforme è se si limitano a fare la piattaforma domanda e offerta, domanda e offerta chiaramente, oppure se si mettono a fare anche il mestiere di chi serviva quella domanda e offerta precedentemente. Amazon non è una piattaforma, è un player di logistica. Copre l'ultimo miglio e ti toglie il bisogno di andare al supermercato, ti toglie il bisogno di andare a comprare la sedia, l'elettrodomestica e così via e quindi ti elimina la catena esistente. Ci sono invece dei player come Tinder dove se trovi qualcuno su Tinder loro non ci escono a cena. Quindi è necessario che in alcune industrie ci siano dei player disruptive, quindi che vadano a rimpiazzare la catena del valore esistente come Amazon e delle altre industrie dove necessariamente si formi soltanto domande e offerte e poi le persone vadano avanti con il loro metodo tradizionale. La risposta è no. In ogni singolo modello di business di una piattaforma c'è una scelta ed è una scelta della piattaforma e questa scelta si vede molto chiaramente nel mercato del trasporto privato, quindi l'equivalente del taxi di una volta. Oggi tutti conoscono Uber, un'azienda disruptive che ti rimpiazza ai tassisti, il loro in piazza con i propri autisti e ti porta in giro. Tanta polemica, tanti fan. Un'altra azienda magari meno conosciuta come Curb è fondamentalmente la stessa cosa, è la stessa app, cambia il logo, ma invece che avere la propria flotta di persone connette dei taxi. Gli stessi taxi che fino al giorno prima tu chiamavi al centralino oppure trovavi in mezzo alla strada. Quindi non è qualcosa di inerente al business model dell'azienda, a quello che ti porta a essere disruptive o come piace chiamarlo a me, symbiotic. È una scelta precisa che l'azienda fa nel momento in cui si crea, si dà delle regole, si crea un modello di business e sviluppa la propria esistenza. Quindi noi siamo nati tre anni fa e abbiamo fatto una scelta. Abbiamo fatto una scelta perché noi crediamo che sia giusto con il what's next, con la volontà di andare a costruire un futuro con una piattaforma che potenzialmente può dominare un intero mercato, farlo in una maniera che aiuti le aziende, che aiuti gli imprenditori, che aiuti tutti gli incumbents, coloro che oggi stanno facendo funzionare a quel sistema invece che rimpiazzarlo. Perché? Primo perché sono un economista, nessuno mi ha dato un paese da gestire, ma ciò nonostante penso che il nostro obiettivo sia quello di portare a un cambiamento positivo. Secondo perché è più facile. Ed è più facile perché se sei Uber, sei un'azienda gigantesca, hai miliardi di dollari di finanziamenti eppure qui in Italia per esempio sei stato fermato dai tassisti che non è che siano particolarmente ricchi, non è che siano particolarmente ben connessi, non è che siano particolarmente organizzati rispetto a una realtà internazionale da 60 rotti miliardi di dollari. Eppure sono stati fermati. Quindi dall'altro lato hai la necessità di organizzarti con il sistema, quindi è più difficile. All'inizio fai molta più fatica a convincere le tue controparti della necessità di una piattaforma a lavorare con te, a costruire con te, ma una volta che l'hai fatto hai un intero sistema che non ti riconosce come un nemico che sta cercando di rimpiazzarti, ma che costruisce con te un futuro migliore per la propria azienda e per il mondo che li circonda. Grazie.